Allora, quindi chi è favorevole a Salamano, chi è incontrato in un momento di rimane, come si sa chi si attiene o chi chiama. 13 voti favorevoli e 2, 4, 6, 8. Allora, 7 voti contrari e un attenuto che fa la persona del consigliere del circone. Quindi l'altro quindi è intatto, insomma, attenuto questo è considerato giusto.